Quali sono le tre domande da farsi quando si vuole aprire una startup, ma non è il momento giusto? Buongiorno e benvenuti, sono Mario Moroni e anche oggi parliamo al caffettino di tematiche interessanti come quelle delle startup. Le tematiche delle startup sono tante, tantissime, il pitch, il business plan, questo e quell'altro, ma in startup di merda più che altro il ragionamento è è ora, non è ora, è giusto o non è giusto parlare di startup, crearla, mettersi, buttarsi? Bene, l'altro giorno ero al telefono con un investitore e abbiamo, come dire, ragionato sulle tre potenzialmente domande che mi dovrei fare io, Mario, se volessi aprire una nuova startup, un'altra azienda e via dicendo. Ora, con te voglio condividere oggi, questa mattina, tre domande che è giusto farsi prima di partire e di mettersi all'opera. La prima domanda che mi faccio sempre è come mai non l'hanno fatto gli altri? Perché di norma, quando ti viene in mente di creare una startup, parti da tendenzialmente qualche cosa che non c'è. E questo è un problema, è un grande problema, perché se non c'è, e visto che il mondo è grande, vuol dire che probabilmente al 99% non c'è, non c'è mercato. Se pensate a Amazon, quando ho aperto questi e-commerce di 20 libri, esistevano mille e-commerce di libri. Idem per Google, esistevano tanti motori di ricerca, il predominio era di Yahoo, Facebook uguale. E quindi, insomma, tutti i grandi successi sono derivanti non da idee eccezionali, ma talvolta da operation, capacità, procedure, operatività eccezionale. Quindi, il mio ragionamento è se non c'è, probabilmente, insomma, è giusto così. Seconda domanda che mi faccio è quante persone ho bisogno per essere indipendenti a realizzare la mia idea? E qui, diciamo, la mia idea attuale di startup è senza dipendenti, senza uffici, senza, diciamo, struttura tradizionale, senza l'azienda tradizionale. E invece, se vado a vedere poi la startup, l'azienda, eccetera, eccetera, è faticosa da fare, no? Inizialmente servono capitali se vuoi avere dipendenti, uffici, eccetera, eccetera. Quindi il punto è, se non funziona con pochissimo capitale, grazie a un'intuizione, grazie a, diciamo così, la robotizzazione delle operazioni, forse conviene non fare una startup e fare un'azienda tradizionale. La terza domanda che mi faccio, super importante, è, ok, il progetto è questo, funziona in maniera molto veloce, c'è già per cui posso copiare dei modelli, ma quanti anni posso mettere a disposizione della mia vita senza guadagnare un centesimo e, nel 99% dei casi, mettendoci dentro i soldi? Come faccio a sopravvivere? Bene, se sono disposto a mettere, diciamo così, in ballo uno, due, soprattutto tre anni della mia vita, allora probabilmente potrei cominciare a pensarci, se invece ho bisogno di quattrini, se invece non ho tempo, se invece ho altre priorità, forse anche in questo caso, e questa è la terza simpaticissima risposta, mi fermo, qui non vado avanti nella realizzazione del mio sogno startup. Tre domande provocatorie le abbiamo fatte anche oggi per il mondo startup, se vi va su www.mariomoroni.it potete iscrivervi alla community gratuitamente e ascoltare anche il libro Startup di merda e divertirvi. E anche oggi abbiamo concluso qui con il caffettino, noi ci risentiamo, come sempre, domani alle ore 7.30, se vi è piaciuto collegatevi sul canale Mario Moroni su Telegram oppure, insomma, condividete anche giustamente questo podcast, fate i bravi, mangiate le verdure, a domani.